Nel caos di un mercato alle stelle, nuove tecnologie, DLSS, Frame Generation, DLDSR, Ray Tracing, Path Tracing, beh, spunta lei la 4070. Per la precisione, rilasciata due settimane fa, ma ho voluto aspettare per vedere disponibilità e prezzi, visto che con la serie 3000 Nvidia ha voluto fare la furba facendo buon viso a cattivo gioco, regalandoci una 3070 a soli 519€, che forse in 5 hanno comprato al Day One e tutti gli altri, i più fortunati, hanno pagato tra i 600 e gli 800€. Beh, a questo giro la situazione sembra decisamente migliorata e la 4070, su carta, è una scheda molto promettente, se non fosse per qualche scivolone di Nvidia. Scopriamola. La cosa probabilmente più interessante di questa nuova serie 70 sono dimensioni ed efficienza, perché grazie al processo produttivo PSMC a 4 nanometri, è in grado di offrire in rastering, e questo ricordatevelo dopo ci torniamo, prestazioni equivalenti ad una 3080, consumando quasi la metà. Certo, non siamo di fronte al salto generazionale che c'è stato tra ampere e touring, ma qualcosa di più simile al passaggio tra GTX 1080 e RTX 2070. Guardando infatti alle passate generazioni, possiamo notare una corrispondenza con la serie 70 che si alterna tra 80 e 80 Ti, dove il salto più breve vede sempre l'arrivo di importanti novità a livello tecnologico, come ad esempio il ray tracing. Ma torniamo a noi, perché ecco, qui iniziano i primi dubbi. La 4070 ha lo stesso numero di Coda Core della passata generazione, 5888 per la precisione, anche se la velocità di clock massima vede un sostanziale aumento a 2475 MHz, con parecchia headroom per overclock manuale. Infatti dai miei test, fatti sulla Zotac Amp Aero, si riescono a raggiungere comodamente i 2900 MHz, con un boost in performance sostanziale. Aumenta, diciamolo finalmente, anche la memoria GDDR6X a 12 GB, esattamente come per la sorella maggiore 40-70 Ti. Un po' al limite per il gaming in 4K, ma assolutamente sufficiente per la risoluzione QHD, a cui in realtà questa scheda punta. E arriviamo alla nota più dolente, perché il prezzo di riferimento rispetto alla passata generazione aumenta di 100 dollari, con un prezzo che poi in Italia si traduce in 669 euro. Si potrebbero inventare tante scuse, il costo del silicio, i prezzi delle memorie, ma l'unico fattore che conta realmente, purtroppo, è il tasso di inflazione che negli ultimi tre anni non fa che salire. In soldoni, se a fine 2020 bastavano 499 dollari per acquistare la 30-70, oggi, a parità di prodotto, dovremmo spenderne quasi 580. Quindi, anche se i 599 dollari hanno una corrispondenza quasi uno a uno rispetto al valore della moneta negli anni passati, beh, diciamocelo, invidia poteva, e in realtà può ancora, giocarsi meglio le sue carte. Tradotto un prezzo più congruo, tenendo conto di tutti i fattori, potrebbe oscillare tra i 599 e i 579 euro, diventando, a questa cifra, un vero e proprio best buy. Perché oltre a offrire, come già detto, le prestazioni raster di una 3080 con i consumi di una 3060, integra tutte le funzionalità, ma soprattutto l'hardware dedicato, delle schede video Ada Lovelace. Questa cosa non è da sottovalutare, perché grazie alla combinazione di IRT Core di terza generazione, il SER, l'Optical Flow Accelerator, ma soprattutto i Tensor Core di quarta generazione, la 40-70 è la prima vera scheda video di fascia media ad offrire un pacchetto di funzionalità del tutto completo che la rende di gran lunga più allettante rispetto ad alternative che sulla carta offrono più prestazioni, come ad esempio la 6950 XT, che oggi si può comodamente trovare sotto i 700 euro. Grazie infatti al DLS S3e, esclusivo per la serie 40, la 40-70 è in grado di superare tutte le schede video di vecchia generazione, 30-90 Ti inclusa, raggiungendo framerate mai visti prima d'ora su scheda video di questa fascia. Il trucco qui si nasconde dietro alla frame generation, ovvero la generazione tramite intelligenza artificiale di interi fotogrammi invece che di singoli pixel, come avviene invece con DLS S2 e altre tecniche di supersampling. Invidia su questo tema ha il coltello dalla parte del manico, che ci piaccia o meno, perché il futuro del fotorealismo di Unreal Engine 5, che stiamo assaporando in questi giorni, e che include anche il path tracing, non potrà mai essere raggiunto dalla forza brutta di calcolo, ma virerà sempre di più verso gli algoritmi di AI. Ecco, tutto bellissimo voi direte, ma di che differenza si parla? I numeri potrebbero sorprendervi. Sì, perché in RT Overdrive, con DLS S off, quindi raster puro, in QHD Cyberpunk sfiora a mala pena i 20 fps. Attivando l'opzione DLS S quality, qualcosa migliora a 35 fps, il gioco è vagamente giocabile, ma siamo ben lontani dalla fluidità visiva. Ora però guardate cosa succede abilitando il DLS S3 Frame Generation. 74 fps di media, sembra incredibile, sul profilo quality e quasi 100 fps in modalità balanced. Certo, non è tutto rosa e fiori, perché qualche piccolo bug visivo qua e là c'è, e la Frame Generation introduce un discreto quantitativo di latenze, meglio della risoluzione nativa, certamente, ma comunque una quindicina di millisecondi sopra il DLS S2. Insomma, avendo a disposizione l'hardware, c'è ancora tanta strada da fare lato ottimizzazione software, ma con questo esempio possiamo toccare con mano il futuro del gaming, passando da una situazione ingiocabile a quasi 100 fps. Tirando le somme, a che pubblico si rivolge la 4070? Ma soprattutto, per quale utenza è particolarmente appetibile la scheda? Diciamo che non esiste una risposta assoluta, ma dipende da quanto valore date alle funzionalità di contorno. Sicuramente la scheda offre eccellenti prestazioni a chi gioca in QHD, sia per titoli AAA che per giochi della sfera competitiva, da cui i giocatori vogliono il massimo framerate possibile. Altro fattore è il DLS S3, ma soprattutto l'hardware adesso dedicato, che troviamo solo su questa scheda all'interno della fascia di prezzo. Anche se un upgrade dalla serie 3000 a questa scheda probabilmente non offre un gran valore, e ai possessori di 3070-3070 Ti interessati ad un upgrade di fascia media, beh probabilmente potrebbe convenire saltare direttamente alla prossima generazione. Quello che a mio avviso è il target che più beneficia dalle specifiche della 4070, è il videogiocatore che magari ha già fatto un upgrade lato CPU, ma ha rimandato l'aggiornamento della scheda video e gioca ancora con una GPU datata, con qualche annetto. Beh in questo caso rispetto ad esempio alle alternative intorno ai 600-700 euro, i bassi consumi e le dimensioni compatte della 4070 vi permettono di utilizzare senza problemi un alimentatore da, che ne so, 550-650 watt, e case come mi viene in mente il popolare 220T di Corsair, dentro a cui oggi serve un flessibile per montare anche solo una 6800 XT. Per concludere, la 4070 a livello di specifiche è un'ottima aggiunta al mercato attuale, che al momento offre fin troppe opzioni per gli spendaccioni, e diverse eccellenti alternative per la fascia entry-level, dove per chi vuole spendere tra i 250 e i 330 euro, si può scegliere tra diverse opzioni molto molto valide, come la RX 6600, oppure la recentissima Intel Arc A750, che tra l'altro supporta anche la V1, come la 4070, o la RX 6650 XT, che a poco più di 300 euro si può ritenere un vero e proprio Best Buy. Mentre fino ad oggi ci si è un po' dimenticati della fascia media, dove l'utenza ha dovuto ripiegare per lo più sul mercato secondario. La buona notizia, visto che quello sarebbe un prezzo da Best Buy per questa scheda, è che nonostante la totale assenza di una vera e propria alternativa Next Gen da parte di AMD, si vocifera già un possibile taglio di prezzo della 4070, che la porterebbe all'interessantissima cifra di 599 euro. Quindi staremo a vedere. Per chi fosse interessato, qui sotto trovate i link a tutte le schede citate. Ma sono molto curioso di sapere il vostro parere su questa scheda, perché fino ad oggi ho letto commenti diametralmente opposti. Quindi fatemi sapere qui sotto se la 4070 può essere un buon upgrade per voi, o a quale cifra pensate che sia un ottimo acquisto. O ad esempio, se aspettate di vedere una mossa da parte di AMD, puntate direttamente a una 4060 o una 4050 che arriverà nei prossimi mesi. Come sempre, per questo video è tutto.